Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. L'emozionante ottava tappa di Pechino Express si è svolta in Sri Lanka, coprendo 387 chilometri di pura adrenalina e sfide incessanti. Partendo dal pittoresco faro di galle, le coppie di concorrenti hanno dovuto superare prove difficili e strategiche fino a raggiungere il traguardo a Kandi. La tappa ha avuto un inizio sfolgorante per le amiche, vincitrici della precedente prova, che hanno deciso di attribuire un malus ai fratm, complicando ulteriormente la loro corsa. Durante il percorso, le squadre hanno affrontato una serie di sfide fotogeniche, inclusa la cattura di immagini instagrammabili, che hanno messo alla prova la loro creatività e precisione. Le sfide non si sono limitate a semplici scatti fotografici. A Udawalawa, presso l'Elephant Transit Home, le prime tre coppie arrivate hanno dovuto competere in una prova che richiedeva abilità culinarie e conoscenza degli elefanti, con gli ultimi arrivati che hanno dovuto cercare ospitalità per la notte. Mentre le squadre lottavano per evitare penalità gustando lo street food locale, i pasticceri hanno trovato una mappa appartenente alle amiche, guadagnando un vantaggio nonostante una successiva penalità per aver infranto le regole del gioco. La competizione si è conclusa a Candy, dove i pasticceri hanno trionfato nonostante le difficoltà, scegliendo chi eliminare tra le ultime due coppie. La loro decisione e il destino deciso dalla busta nera hanno portato all'eliminazione dei fratm, con un addio commovente. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.